Gentili telespettatori, buona giornata. Laura Boldrini contro tutti, anche contro la sua sinistra, la sua area di tifoseria politica. Perché? Dice che c'è una mentalità patriarcale trasversale. Ah, finalmente ci siamo arrivati! Vi ricordate il caso Giulia, dove i sinistri avevano tirato fuori la storia che il caso Giulia deriva da una società patriarcale e pertanto la società patriarcale fa parte del DNA della destra. E era tutto fatto per colpevolizzare e accusare il governo di un fatto di cronaca. Però, alla fine, vi ricordo che la società patriarcale, a ragione la Boldrini, è trasversale. E' trasversale. Ma guardatevi i film che trovate su Youtube degli anni 50, 60 e anche 70. La società era assolutamente patriarcale, assolutamente. Negli anni 50, 60 e 70 l'uomo comandava a scuola, sul lavoro, in famiglia, tra gli amici. Sempre. Oggi non è più così. Ma basta guardare quei film e notate che la società patriarcale era la società trasversale. Non è che c'era partito patriarcale o no. Era tutta la società patriarcale, partendo dall'estrema sinistra fino all'estrema destra. Senza distinzione. Quindi oggi la Boldrini dice che la mentalità patriarcale è trasversale. Sì, hai ragione. Ma lei perché lo dice? Lo dice perché vuole cambiare il nome della Camera dei Deputati. Deputati è plurale del nome maschile deputato, deputati. Voi sapete che in una società patriarcale la lingua che si utilizza è anch'essa patriarcale. Pertanto la lingua italiana che è di derivazione patriarcale, ovviamente, che cosa dice? Dice che quando si parla di un gruppo di persone, che possono essere all'interno maschi e femmine, un gruppo di persone, al plurale, si utilizzi il plurale maschile, no? Gli alunni. Gli alunni oggi hanno fatto casino. Gli alunni, plurale maschile. La Camera dei Deputati, plurale maschile. Si utilizza il maschile quando si parla di un gruppo formato da uomini e donne. Perché la lingua deriva da una società patriarcale. Oggi, per esempio, la capa Schlein, tutto lo dice, allora, cari tutti e care tutte, tutto coniugato sempre, e gli alunni e le alunne, e gli operai e le operaie. Certo che in ogni frase, ogni volta che si parla al plurale, bisogna dirlo al maschile e al femminile, diciamo che era più comodo, ovviamente, utilizzare gli alunni, oggi si sono comportati male. Gli alunni e le alunne oggi si sono comportati male. Oggi la mentalità che c'è del politicamente corretto, eccetera, eccetera, ti dice, eh no, non può più essere la lingua patriarcale. Non puoi più dire gli alunni. Devi dire le alunne e gli alunni. Ogni volta devi dire alunni e alunni, tutte e tutte, spettatori e spettatrici, diventa pesante. Come lo risolvi? Che ne so, non lo so, la lingua è sempre stata così, adesso all'improvviso cambiare tutto e parlare di alunni e alunne diventa faticoso. La Boldrini vuole cambiare Camera dei Deputati, Camera delle Deputate e dei Deputati. Perché poi c'è anche l'articolo, non puoi solo dire Camera dei Deputat, togli la I, così, ma poi non è neanche grammatica italiana, non puoi togliere la I, Deputat non esiste, Camera dei Deputat. Però non va bene, perché c'è davanti dei, dei, plurale, maschile. Allora, dei Deputati delle Deputate. Allora dovresti togliere la I anche da dei, dovresti dire Camera dei Deputat. Sembra quasi in dialettina. De Deputat. Ma insomma... Capisco il politicamente corretto, deve esserci una lingua italiana corretta, però come la risolvi questa cosa qua? Dicendo Camera dei Deputati e delle Deputate, Camera, non lo so, Camera dei Senatori e delle Senatrici, il Consiglio Comunale e come diciamo, il Consiglio e la Consiglia Comunale, il Geometro e la Geometra, dico a tutti i Geometri e le Geometre, perché i Geometri, come dobbiamo chiamarli, le Geometre, gli Architetti e le Architette, vi sembra bello dire le Architette? Gli Ingegneri e le Ingegniere o le Ingegneresse. Vabbè, insomma... Io capisco... Io capisco il politicamente corretto, ma oggi trovare una soluzione non è facile. Lei parla di mentalità patriarcale trasversale, bisogna abbattere questi pregiudizi, anche nelle istituzioni, non è un pregiudizio, è una lingua di derivazione patriarcale, non è un pregiudizio, bisogna anche dire le cose come stanno, non è una lingua con pregiudizio, è una lingua fatta così, non c'è nessun pregiudizio, è stata fatta così. È sbagliato dire pregiudizio su questo tema. La volontà è modificare la denominazione della Camera dei Deputati e contenuta all'interno dei progetti di legge presentati nel corso dell'attività legislativa. Nella sezione dedicata, spulciando tra i vari documenti, ecco che spunta l'iniziativa di Gian Antonio Girelli e Sara Ferrari. Volete cambiare il nome? E cambiatelo, non importa, è solo più lungo, no? Vi trasmettiamo dalla Camera delle Deputate e dei Deputati, dove sono presenti gli architetti e le architette, e parlano della questione dei geometri e delle geometresse. Il geometra è la geometra o la geometressa? Poeta, poetessa? Studenti, studente, lo studente, la studente, la studentessa? Boh, vabbè. Insomma, bisognerebbe cambiare tutta la lingua italiana con nuove regole. È un po' difficile. Arrivederci a tutti e grazie.